Musica Bentornati in diretta, come annunciato nel corso del nostro telegiornale, ha raggiunto i nostri studi il sindaco di Fano Massimo Seri al quale do il benvenuto. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Vi ricordo i numeri di telefono 07 21 86 14 33 oppure potete inviare un messaggio su whatsapp al 338 49 68 250, numeri che già conoscete benissimo perché sono arrivati tantissimi messaggi. Sindaco, però io partirei dalla Fano Romana perché in questi giorni Fano è alla ribalta nazionale non solo per questi importanti resti che sono stati rinvenuti all'interno di un cantiere edile nel centro storico di Fano. Non sappiamo ancora se si tratta della Basilica di Vitruvio, certo è che questi scavi, questi reperti possono farci conoscere meglio la Fano Romana. Sì, beh è stato intanto una grande scoperta questo rinvenimento di questo pavimento a prescindere che sia la Basilica o è un edificio pubblico romano e rimane comunque una scoperta molto importante. E ancora una volta Fano si conferma essere una città sotto l'aspetto ecologico molto interessante e diciamo che Vitruvio ha conquistato in questo caso la ribalta perché questa notizia ha fatto il giro di tutti i mass media, ha fatto il giro dell'Italia ed è stata una grande promozione per la nostra città. Qualcuno aveva un po' ironizzato che era stato un po' azzardato fare queste comunicazioni, oggi possiamo dire che abbiamo fatto molto bene perché nessuno ha detto che è la Basilica, potrebbe essere la Basilica ed è stata veramente una grande promozione perché l'interesse è cresciuto tantissimo per la nostra città. Io stesso nei giorni successivi ho ricevuto tanti messaggi dalle persone che mi conoscono in giro per l'Italia interessate a Fano, per cui questa è una grande opportunità e ovviamente oggi non dobbiamo fermarci, dobbiamo proseguire. Il governo, la regione, la sovrintendenza deve fare la sua parte, la sovrintendenza devo dire è stata molto attenta, con la quale collaboriamo molto, però è necessario adesso destinare risorse e Fano come amministrazione, e lo dico con soddisfazione, molte volte ci siamo anche sostituiti al governo alimentando noi anche risorse per fare gli scavi. Io penso alla zona del teatro romano dove era rinvenuto questo tempio molto importante, ho scritto anche al ministro con la speranza che possa avere un'attenzione verso Fano e verso tutto quello che rappresenta. Cambiamo argomento, è bello vedere anche queste immagini, eravamo lì quel giorno e speriamo anche che il ministro possa accogliere il suo appello, il suo invito. Dicevamo del casello di Fano Nord, un'altra notizia importante che abbiamo dato anche noi nel corso del telegiornale nei giorni scorsi, i lavori secondo Aspi, società autostrade, dovrebbero partire nel 2025, però c'è da dire d'altra parte che c'è chi a questo punto ritiene inutile oltre che dannosa la variante di Gimarra, ad esempio la Lega ritiene addirittura che con questa variante si rischia di mandare in dissesso il Comune. Che cosa risponde e che cosa pensa a riguardo? Beh intanto penso che il tema del casellino non sia una novità, questa cosa è nota, è nota da anni perché ci sono due elementi che vorrei sottolineare perché poi chi non conosce a fondo le questioni magari poi si accontenta della comunicazione dell'ultimo minuto. Quando sono diventato sindaco nel 2015 mi presentarono una convenzione capestro dove mi dicevano di firmare, dove si portavano termine le opere compensative, ma si chiudeva con quella firma, era una firma tombale per quello che riguardava il casello Fano Nord. Io mi rifiutai di firmare quella convenzione, estrapolai l'articolo 5, lo ricordo ancora molto bene e oggi con il seno di poi posso dire, guardando anche l'esperienza di Pesaro, posso dire che fece una grande operazione perché noi le opere le abbiamo tutte finite e nel frattempo abbiamo salvaguardato il casellino perché finché non si realizza non c'è la realizzazione dell'accordo quadro Stato-Regione che prevedeva anche il casello Fano Nord. Sono alcuni anni che si dialoga, che la Regione e l'Aspi dialogano sul casellino, il progetto è pronto da tempo, adesso l'assessore ha comunicato, probabilmente ha ricevuto la comunicazione informale, noi come Comune ancora dobbiamo avere notizia formale, non c'è stato inviato neanche il progetto, però al di là di questo è un elemento importante perché il casellino Fano Nord, unito al casellino Pesaro Sud diventa, e concordo con chi dice, un bel collegamento Fano-Pesaro, veloce, perché in pochi minuti a quel punto si è veramente a Pesaro. Quindi sulla variante insomma, si vedrà. Come? Sulla variante invece... Il vice sindaco con la struttura sta procedendo, anche questo è vero, sono quelle opere che impattano, che dividono, io stesso ho sempre manifestato alcune perplessità sulla stessa strada, però c'è una maggioranza di cittadini e una maggioranza del Consiglio Comunale che vuole fortemente quest'opera, la democrazia è anche questa. Abbiamo la prima telefonata per lei, chi c'è in linea? Buonasera. Buonasera, sono Marche... Buonasera. Signor sindaco, buonasera, sono Marchevelli. Buonasera. Sono una degli inquilini che pagano regolarmente le spese condominali, ma che da 15 giorni siamo senza acqua qui a Bellocchi. Vorrei sapere del signor sindaco che cosa pensa di potermi dire. Parla del condominio Era. Sì, sì, sì. Parlo del Consiglio, il sindaco lo sa perfettamente. Sì, 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 ho capito perfettamente. Ha parlato con lui. Ha parlato con me qualche giorno fa, signora? Venerdì mattina. Ok, perfetto. Precisa. L'avrei chiamata domani mattina. Grazie, dottore. Allora, intanto sono solidale, la signora, insieme ad altri inquilini che pagano regolarmente, hanno ragioni da vendere per la situazione che si è creata in quel condominio. Ovviamente il tema dell'acqua è un tema delicato, chiunque comprende le difficoltà che si hanno quando non si ha l'acqua a disposizione in casa. Insieme all'assessore Tinti abbiamo convocato Erap e Aset la settimana scorsa. Si è raggiunto un accordo dove l'amministratore di condominio recuperava alcune risorse, Erap ne aggiungeva delle altre per raggiungere il 50% della copertura delle somme non versate. e si sarebbero rilacciate i contatori, quindi l'esplorità dell'acqua e quest'estate sarebbero stati eseguiti da parte di Erap i lavori per dividere i contatori appartamento per appartamento, che penso è la cosa più giusta. Ad oggi non sono stati ancora lacciati perché la somma del 50% non è stata ancora raggiunta, fra la somma messa a disposizione da Erap e quella recuperata dall'amministratore. Io domani oggi l'ho predisposta, domani invierò una lettera dove chiederò di riallacciare, anche se manca un pizzico, un piccolo, in modo tale che le persone possano riutilizzarla, intervenendo poi con questi lavori che si eseguiranno e si creerà anche quella giustizia tra coloro che rispettano le regole, ci comportano bene e coloro che in qualche modo, pur nelle difficoltà, ma alcune volte ho il sospetto che qualcuno ci marci anche. Perché c'è anche da dire che chi è in difficoltà può dialogare anche con l'amministrazione, con i servizi sociali, per esempio di quelli che non pagano regolarmente se n'è solo una famiglia in carico ai servizi sociali, quindi questo è un elemento che fa riflettere. Però rispondendo alla signora auspico che nel giro di poche ore, insomma, in un giorno o due possa essere rilacciata l'acqua. Domani invierò la lettera. Ancora a tasse. Buonasera signor Sindaco, mi permetto di scriverle perché vorrei dichiaramenti su questi addizionali regionali e comunali che sono in aggiunta ad un IRPEF che già paghiamo mensilmente in busta paga. Intanto, che cosa sono e dove vanno a finire questi soldi? Inoltre, come mai l'aliquota varia da comune a comune? La ringrazio. Sì, perché le aliquote in parte sono definite dalla regione, in altre sono definite dai comuni. Poi ogni comune fa le scelte in base alle loro esigenze, alle loro difficoltà. Noi in questi anni non abbiamo applicato nessun aumento in qualsiasi situazione, anzi abbiamo evitato anche di applicare sui servizi alla persona, anche quelli al mentistat, sono alcuni anni che non li applichiamo, visto anche il periodo complicato che abbiamo attraversato e anche quest'anno abbiamo fatto la scelta e quindi noi non abbiamo un centesimo in più di entrata rispetto allo scorso anno. Pensavo già fossero alti in realtà, quindi le dice no rispetto ad altri comuni? No, non lo so, dopo alcune cose sono al massimo anche da noi, altre meno. Adesso non voglio giustificarmi, però da quando mi sono insediato avevo solo aumentato l'Imu e devo dire che per fortuna l'ho fatto quell'anno perché l'anno dopo è stata sospesa e quel trasferimento storico è stato il trasferimento che è rimasto negli anni e quindi noi grazie a quell'operazione che facevamo nel 2015 o 2014, proprio il primo anno, abbiamo avuto un beneficio. Poi per il resto in realtà non abbiamo mai aggiunto altre tassazioni. Le chiedono se è possibile fare pressioni per quanto riguarda la pulizia del fiume Metauro, quindi in questo caso alla regione che se ne occupa e poi le chiedono se quando saranno riposizionati i cassonetti del Verde a Ponte Sasso in via Lago di Garda che mancano ormai da ottobre 2022. In questo caso ASET è l'ente referente che si occupa di questo. Poi passeggiata dell'Esippo, sarebbe ora di una sistemazione. Da qui possiamo anche spostarci verso il waterfront. Partiamo dalla passeggiata dell'Esippo fino ad arrivare ai progetti previsti dall'amministrazione comunale e anche tanto attesi direi. Sì, passeggiata dell'Esippo è pronta, abbiamo destinato delle risorse, i lavori sono previsti, ce l'ho qua. Adesso che sono uno dietro l'altro, sono talmente tanti che mi sfuggono, non lo trovo ovviamente. Vediamo se riusciamo a ritrovarli, altrimenti passiamo al prossimo momento senza problemi. Al di là del... è già in programma, devono essere appaltati i lavori e quindi li vedranno. Adesso non so dire con precisione quella che sarà la data, ci deve essere una conferenza di servizi programmata a breve e poi la gara d'appalto. Per cui penso... adesso non so dirvi quando, ma insomma è un lavoro già programmato. E diventerà molto più bello, sarà l'ingresso della passeggiata migliorato. Fra l'altro abbiamo già fatto vedere i rendering in altre occasioni. Quello abbellirà molto l'ingresso, una bella passeggiata. E visto che ci siamo, l'ho anche richiamato, il waterfront, quindi la riquificazione della parte diciamo dall'anfeteatro Rastret intorno. Poi aggiungo anche Viale Battisti. Bene, qui Viale Battisti va a gara a brevissimo e noi contiamo di poter iniziare i lavori già da giugno. Ovviamente senza spaventare, però qualche disagio dovranno subirlo i cittadini perché quando si fanno dei lavori inevitabilmente si creano dei disagi. Lì i lavori saranno da una parte all'altra, quindi li faremo in modo alternato in modo tale che potrà essere utilizzato. Quindi sono 6-7 mesi di lavoro. Il waterfront, l'obiettivo è iniziare i lavori a settembre, in modo tale che si lasci fare tutta l'estate. Anche qui sono lavori che durano diversi mesi. Se si riuscisse a anticiparli anche durante l'estate, magari in qualche zona dove non disturbiamo le attività turistiche io l'azzarderei perché inevitabilmente poi se magari c'è la stagione invernale più brutta del solito, è vero che non piove più, però poi possono esserci dei ritardi e inevitabilmente poi si rischia di slittare nell'estate successiva. Però anche su questo l'obiettivo è partire nel mese di settembre, quindi collegare d'appalto già nel mese di giugno. Le faccio vedere alcune foto che ci hanno inviato nel pomeriggio che riguardano la strada comunale di Mezzo. Siamo in zona Tombaccia, eccole qua. Ne approfitto per elencare alcune vie in cui vengono richiesti gli asfalti, via Meda e via Turati, via Galilei, via Bellandra, via Fossa di Sant'Orso, via Battissi, via Giulini, nel tratto che è a senso unico. Sì, alcune di quelle che ha citato sono già previste nella nuova programmazione. Questa, la strada di Mezzo, la stiamo inserendo nella nuova pianificazione e faremo altri 2 milioni e mezzo di asfalti, sperando di iniziarli già in quest'estate. I tecnici hanno già avuto l'input per elaborare il progetto, per cui auspico che per il mese di maggio abbiamo il progetto. Abbiamo già un accordo quadro, quindi non dovrebbe esserci neanche la gara e si può partire subito nell'estate. C'è un lungo elenco di nuove vie. Quelle citate, mi viene in mente via Galilei, è già programmata, è già pianificata, sta nel progetto, entro settembre saranno asfaltate, partiranno da via Mariotti fino a Sant'Orso, via Galilei. Poi nella nuova programmazione ci sono altre stadi di Sant'Orso, altri quartieri. Insomma c'è un lungo elenco che si unisce a quelli che stanno facendo anche in questi giorni. Allora intanto torniamo un attimo a parlare sui cassonetti, perché il telespettatore ci dice che è il Comune che gestisce la posizione dei cassonetti, per cui chiediamo all'assessore Brunore se ci ascolta di verificare. Sì, in realtà c'è una commissione che definisce dove posizionarli, che è promiscua, c'è anche il Comune ma c'è anche Aset, quindi allora la domanda era diversa, se si parla di ubicazione allora viene interessata anche la commissione. Visto che si è parlato di Sassonia, questa scogliera di fronte a Bagnicarlo? Ci siamo, è già partita la gara, mi ero preso l'impegno che con l'approvazione del bilancio è stato approvato il 13, il 14 mattina abbiamo approvato l'atto in giunta e il giorno dopo il 15 è partita la gara che sta con il numero minimo di giorni, quindi verso fine aprile inizieranno i lavori e insomma a questo punto ci siamo e ultimiamo anche questo lavoro, scusandoci per il ritardo, però ahimè questa era una scogliera che doveva essere già fatta da due anni e mezzo, purtroppo la ditta se n'è andata, è abbandonato, non ha realizzato il lavoro e noi siamo stati costretti di ripresentare e rifare una nuova gara. A proposito di scoglieri ci spostiamo a Metauriglia, il Comitato la ringrazia per aver accolto l'invito ad effettuare un incontro pubblico che è stato confermato per lunedì 27 marzo del 21, visto che secondo le disposizioni della Regione per poter utilizzare i 4 milioni di euro dei fondi PNRR per il secondo stralcio è tassativo che il bando di gara ci spiegano di appalto verrà emesso entro il 31 maggio 2023, i lavori vengono affidati entro il 30 settembre e i lavori abbiano inizio entro non oltre il 31 ottobre 2023. Le chiedono se a questo incontro per rispondere alle istanze degli operatori balneari, del Comitato e dei cittadini che lo vorranno ci sarà una delegazione che oltre a lei comprenderà anche il vice sindaco che ha la delega alla difesa della costa e soprattutto i progettisti incaricati. Sa già rispondere al spettatore? Ci saranno quelli che possono dare informazioni, ovviamente noi per stare nei tempi ci siamo già adoperati, giovedì mattina ci sarà una delibera che riguarderà proprio questa progettazione che faremo insieme al Proditorato di Ancona e vorrei dire, mi viene in mente e sorrido anche che pensando al primo intervento che un assessore regionale venne a Fano a fare una conferenza stampa come il Salvatore della Patria e dire sposterò quelle risorse perché rischiano di essere perse, perché il Comune non riesce a finire i lavori entro l'anno. A ottobre di quell'anno abbiamo inaugurato alla presenza anche sua i lavori eseguiti della prima parte, adesso proseguiamo con gli altri 4 milioni e quindi stiamo procedendo, sono abbastanza tranquillo ovviamente salvo incidenti sul percorso. Le chiedono anche del rifacimento dei marciapedi a Cucurano perché sono ammalorati e poi le chiedono i lavori su Rio Crinaccio quando inizieranno? Dovrebbero essere finiti per maggio, dico questo, i lavori di Rio Crinaccio. I marciapiedi hanno ragione ma potrei aggiungere Carrara, Rosciano, Viale Primo Maggio, insomma ce ne sono diversi che hanno bisogno. Come mai? Non avete mai pensato di migliorare la rotatoria dell'ex Agip? Le chiedono, potreste farlo anche utilizzando parte dell'area dell'ex distributore? Sì, in realtà c'è stato uno studio, abbiamo fatto proprio anche lo studio di tutti i movimenti dalle biciclette ai motorini, macchine, camion, mezzi pubblici, pedoni, si è guardato. Quella è una zona complessa, in realtà è complicato anche utilizzando una parte dell'ex Agip. Io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, per cui mi affido a quelli che sono i consigli degli ingegneri. Comunque ci hanno ragionato e in una logica insomma complessiva ci sta anche un intervento migliorativo però è problematica. Avevamo proprio, era una delle prime ipotesi, quella di prendere una parte ma in realtà non era così funzionale. Posso anche dire che penso domani mattina faremo la conferenza stampa per presentare anche il nuovo progetto, ma in realtà anche questo verrà appaltato a breve e spero, auspico insomma, che siano di quelle cose che entro maggio 2024 possa essere l'ultimato e inaugurato. Sindaco, il centro storico è nelle mani delle baby gang, abbiamo visto anche la notizia nel nostro telegiornale. I nostri figli hanno paura di girare in centro, è possibile avere un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, soprattutto l'uscita delle scuole durante il pomeriggio. Oggi pomeriggio ci hanno scritto anche per una situazione simile dietro la Vandiglio, insomma situazioni un po' più, un po' pericolose. Sì, adesso, però diciamo la verità, Fanno non è una città pericolosa, questo lo dobbiamo dire, è una città dove si vive bene. Ci sono delle problematiche, dei gruppi di adolescenti che creano dei problemi, dei disagi che conosciamo, le forze dell'ordine conoscono. Posso dire questo, che noi in realtà dialoghiamo, ci sono state anche una serie di operazioni, di azioni per monitorarle e in alcuni casi sono state anche degli interventi. Voglio anche ringraziare le forze dell'ordine che, tra l'altro, purtroppo sono anche in organico ridotte. Qui sarebbe bene, visto che abbiamo dei rappresentanti anche a Roma, della nostra città, che si adoperassero, visto anche quando erano all'opposizione, rivendicavano sempre con furore la necessità di rimpinguare gli organici e quindi potrebbe essere l'occasione di essere coerenti, perché effettivamente Fanno ha bisogno di essere rinforzati in tal senso. Io mi sono anche scocciato, lo dico spesso, purtroppo anche le varie rappresentanze dell'organizzazione del territorio sono silenziose quando parliamo di questi aspetti, purtroppo Fanno paga un dazio quella di non essere città-capoluogo e ha tutta una serie di penalità, compreso anche questo, perché sappiamo che le città-capoluogo, essendoci le questure, hanno maggior personale che poi alla fine viene distolto da città come Fanno. In altre province questo va bene, perché hanno una sola città importante, penso Fermo, penso Macerata, anche Civitanova che magari è lo stesso problema nostro e Ascoli con San Benedetto che hanno più abitanti delle stesse città-capoluogo. C'è un problema di questo tipo per cui mi sento il dovere di ringraziarli per il lavoro che fanno essendo sotto organico. Poi c'è un tema anche di lavoro che non è solo di soppressione, ma è anche un lavoro sociale da fare con questi ragazzi, anche su questo c'è un lavoro che si sta programmando, c'è stata un'indagine, un'analisi fatta. Ovviamente dovremmo anche essere, sotto certe situazioni, essere anche più col pugno determinato, perché anche le vicende ultime del gas-gas gridano vendetta, qui si parla di mera maleducazione e di questi ragazzi che in qualche modo vanno ridarguiti e qualche lezione educativa, dico io, sarebbe anche necessaria. Alcune volte l'abbiamo anche fatto, richiamando i genitori, facendo rimettere e sistemare le cose che sono state rotte, così si responsabilizzavano figli e genitori. Però ecco, voglio riaffermare che fanno una città tranquilla, questo al di là del gioco della politica, dove molte volte si tende a enfatizzare. Ci sono delle problematiche, ai cittadini che lo segnalano, dico, è nota la cosa, ci si sta lavorando, ci lavorano le forze dell'ordine, che dialogano tra loro, c'è anche un coordinamento. Noi cerchiamo di fare la nostra parte con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Stiamo ragionando anche su altre misure che possono essere anche educative. Ritorno un attimo a parlare dei cassonetti, perché di via Lago di Garda a Ponte Sasso, l'assessore Brunori ci ha prontamente risposto, il lotto è privato e il proprietario non li ha più voluti. Nel frattempo è stato inserito in uno spazio limitrofo più piccolo, solo la plastica. Torniamo tra poco per parlare, sindaco, del parcheggio di via del risorgimento della caserma di Vigili del Fuoco, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Sindaco, le chiedono quando verrà riaperto il parcheggio di via del risorgimento. Il parcheggio di via del risorgimento verrà inaugurato il 27 mattina. Il lavoro è finito. Anticipo una domanda, magari visto che parliamo di parcheggi, mentre al foro Boario le cose stanno procedendo. Vorrei far notare, il foro Boario siamo in perfetta regola con i tempi ed è una ditta del territorio. Lo voglio sottolineare perché quando le cose funzionano bisogna dirlo, quando invece ci sono ritardi, il parcheggio di via del risorgimento è una ditta che viene da lontano, lasciatelo dire, purtroppo ha avuto dei ritardi, adesso pagheranno delle penalità. Usiamo tutti gli strumenti che abbiamo nei confronti di quelle aziende che non si comportano bene, però il lavoro, ripeto, è finito, il 27 verrà eseguito. Ma visto che ci sono, voglio, intanto vorrei dire, ho riverificato durante la pubblicità i tempi dell'Isippo, la presenza dell'Isippo inizieranno i lavori a settembre, quindi a fine estate. Invece come sindaco sto calvalcando e vorrei riuscisse anche ad avere da parte di colleghi una giusta sensibilità, è giunto il momento, a mio avviso, che si facciano delle blacklist, cioè tutte quelle dite che non si comportano bene, che non rispettano i tempi e gli impegni che si sono assunti nei lavori pubblici, per i cinque anni successivi non possono più partecipare a gare pubbliche, perché qui si parla sempre male del pubblico, ma noi dobbiamo dire che in questi anni abbiamo fatto progetti, finanziato tante cose e purtroppo non abbiamo trovato sempre la stessa risposta da parte delle aziende. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono pochi, sono quelli delle penali, se apriamo il contenzioso è un lavoro che si interrompe e con la giustizia civile andiamo alle calende greche, quindi vuol dire bloccarle, non dico per sempre, ma per 7-8 anni e quindi ci troviamo in queste situazioni. Fortunatamente adesso alcuni lavori sono in ritardo, ma arrivano alla fine, e uno di questi è stato proprio questo viaggio di assolgimento, però oggi possiamo dire che è un bel parcheggio, sono aumentati i posti ed è stata una bella opera e lo vedremo poi, i cittadini stessi potranno utilizzarlo e verificarlo dall'anno di 27 quando lo inaugureremo, se riusciamo anche sabato 25. Per la questione caserma vigili del fuoco a che punto siamo? Siamo a buon punto, nel senso, come ho dovuto dire anche le volte scorse, abbiamo avuto l'aggiunta di risorse nuove da parte del Ministero per l'aumento dei prezzi, i vigili del fuoco in questo caso ci hanno chiesto di fare delle modifiche al progetto, modifiche che sono in corso, appena finito e riappaltiamo i lavori. Andiamo avanti con le segnalazioni che siamo riusciti a preparare perché arrivate nei giorni scorsi, abbiamo delle foto che si riferiscono ai passeggi e la nostra reporter ha scritto questi sono i parcheggi appena piove un po', sono impraticabili, è possibile mettere della ghiaia nei punti più a rischio? È possibile, fra l'altro lì c'è un lavoro che l'assessore Levoripugli sta facendo con il coinvolgimento anche del Consiglio dei Bambini dove hanno lavorato insieme per ripensare anche alcuni interventi che tengono conto di alcune sensibilità e insomma se tutto va bene faremo anche un intervento di questo tipo. Abbiamo anche un altro video che invece riguarda l'ex asilo Manfrini, ve lo mostriamo. Bello il vecchio asilo Manfrini? Sono almeno 15 anni che in queste condizioni la gente è costretta a passare di fianco alle impalcature vecchie anche quelle che ormai non si potranno più smontare per la ruggine però nei padroni del posto, nel comune, nel governo fanno qualcosa. Forse quanto cadrà addosso qualcuno interverranno. Beh qui ci sono state vicende travagliate, è chiuso dal 96, sindaco anche in questo caso che punto siamo? Sì, allora intanto... Che la proprietà non è... Sì, intanto vorrei spiegare, mi fa piacere questo intervento che mi dà la possibilità di rispondere che il comune sta facendo e ha fatto qualcosa. La proprietà era del demanio marittimo, siamo riusciti a far trasferire dal demanio marittimo al demanio statale, diciamo, anche quello marittimo è statale e ora abbiamo già concluso, stiamo solo aspettando di firmare il protocollo di passaggio della proprietà dal demanio al comune di Fano. Noi stiamo già progettando l'interno in attesa che questo passaggio avvenga noi spieghiamo che insomma entro aprile possa avvenire questo passaggio. C'è un'operazione in atto con delle risorse che abbiamo già previsto che ci devono entrare e che destineremo per il Manfrini quindi diventerà una struttura a disposizione della collettività. Quindi non un museo della marineria, sì? Sì, sì, sarà dedicato al Museo del Mare, attività che sarà dentro, si legherà alla passeggiata del Darsena Borghese quindi verrà tutto valorizzato, di solito ci sarà il sottopasso nuovo che verrà consegnato nel 2024. Adesso a breve partiranno anche i lavori del nuovo sottopasso di Viale Cairone che questo lo presenteremo alla città con il rendering per come verrà realizzato. Fra l'altro colgo l'occasione che ho verificato per quel grado di passeggi. La ghiaia verrà messa in entrambi i lati, sia a destra a sinistra del canale. Il cavalcavia stazione all'asfalto vergognoso, non è un bel biglietto da visita per il turismo. A proposito, per la stazione ferroviaria? Stazione ferroviaria, RFI interverrà. Purtroppo ha rinviato ancora di un anno i lavori. Noi eravamo partiti già da qualche anno. Non so cosa sia successo, probabilmente dai livelli regionali a salire si sono adoperati per far impegnare interventi prima in altre città. Comunque è programmata un intervento significativo di ristrutturazione di tutta la stazione compreso l'ascensore, solo che è programmata per il 2025-24. Dobbiamo attendere un po'. Invece del nuovo Palasport non se ne parla più? In realtà se ne è parlato. Su questo però devo fare una verifica e non vorrei dire le cose che poi sono imprecise. Per cui mi riservo e chiedo scusa al telespettatore che ha fatto la domanda però vorrei verificare una cosa per poi poterlo comunicare. L'area dell'ex mattatoio? Ci sono progetti? Le chiedono? Quello sta dentro il Pinqua che è in attesa di finanziamento. E poi si passa alla fabbrica del Carnevale? Anche qui le chiedono aggiornamenti? Sì, questa è un'altra storia all'italiana vergognose dove la giustizia civile porta dei ritardi lunghissimi per una sciocchezza che fra l'altro ha dato poi ragione all'amministrazione comunale. Sono stati bloccati per un anno e più i lavori. Oggi potevamo essere lì a tagliare il nastro invece siamo qui che ancora devono partire. Abbiamo rischiato di perdere anche i fondi per questi ritardi. Fortunatamente qui devo ringraziare la Regione che ha trasferito quelle risorse in un altro capitolo per prolungare le tempistiche trattandosi di risorse europee. Adesso stiamo aspettando il pronunciamento del Consiglio di Stato che fra l'altro si era già pronunciato dando ragione all'amministrazione comunale e quindi la dita a cui avevamo giudicato noi dovrebbe ripartire ma quella che non ha avuto ragione ha richiesto l'annunamento della sentenza e aspettiamo che il Consiglio di Stato si esprima. A Cucurano, dalla zona del club anziani al distributore ESO, svincolo di Bellocchi, la velocità dei mezzi sulla Flaminia è aumentata da dopo che è stato posto l'autovelox, ci scrivono, perché le macchine prima frenano e poi quando in questa parte di Flaminia accelerano. In questa zona non si è risolto nulla ma sono peggiorate le cose. A quando una rotonda ha lo svincolo di Bellocchi che permette ai mezzi di entrare a Cucurano con il limite di 50 e non come in un'autostrada? Penso che la rotatoria, in fondo che è utile, è fuori discussione, ma non è che porta i grandi vantaggi nel rallentamento del traffico perché lì c'è un rettilineo e i rettilinei purtroppo quando poi c'è poco traffico portano ad accelerare. L'autovelox ha portato dei benefici perché sul centro abitato ha oggettivamente rallentato. Prima, nella parte anteriore o in uscita, è chiaro che poi chi guida tende ad aumentare la velocità, non era come prima perché è impossibile essendoci comunque un rallentamento e poi una ripartenza. però dovremmo mettere, adesso abbiamo già definito altri autovelox che posizioneremo in diversi punti della città che non sono fissi, verranno collocati saltuariamente e ce ne saranno altri sulla Flaminia, altri in altre strade provinciali dove la velocità è sostenuta e pericolosa. A quando invece la sistemazione del marciapiede sulla statale adriatica a Ponte Sasso per mettere in sicurezza i pedoni? Sì, anche quello è un lavoro che sta tra quelli che dobbiamo fare, non è un lavoro grande, però in questo momento abbiamo gli uffici bloccati, anche su questo dobbiamo essere onesti, per cui appena si libera uno spazio per poter fare un progettino lo possiamo inserire. Vorrei sapere dal sindaco come stanno affrontando il problema della siccità, hanno previsto invasi o altro come si diceva a fine estate scorsa? Beh, ovviamente non è che pensiamo invasi alla città di Fano, questa è una pianificazione che deve essere di carattere provinciale, però purtroppo anche noi siamo fatti male su ogni cosa, ogni percorso che andiamo a definire, nascono comitati, impediscono che certi processi avanzano e non siamo in grado mai di anticipare le problematiche. È una pianificazione che deve essere di carattere provinciale, purtroppo, ahimè, devo riscontrare, e su questo vedo anche delle responsabilità, io mi ci metto sempre in mezzo perché è giusto che sia così, ma in alcuni casi ci sono altre responsabilità che purtroppo dovrebbero fare più da regia e queste vengono meno. E questi sono i risultati, per cui sulla situazione idrica non possiamo più permetterci ritardi e diventa importante una pianificazione territoriale, pensando anche degli invasi, poiché si trattano di interventi costosi, difficili da progettare, è necessario che poi si facciano delle scelte e si condividano, poi ovviamente come tutte le cose non avranno mai un'animità, avranno le contestazioni, però bisogna andare avanti, perché altrimenti pagheremo un prezzo troppo alto in futuro. Il quartiere Poderino sta cambiando fisionomia, costruzioni di palazzi al posto di abitazioni unifamiliari, strade dissestate, vedi via Liguria e via dell'Uniti, autoparcheggiato ovunque, isole ecologiche inguardabili. Ci saranno dei provvedimenti per farlo tornare quello che era, il modello di a scuola, ci andiamo da soli? Allora, alcuni interventi sono già programmati, anche alcune vie citate verranno asfaltate, il problema vero è che troppe villette vengono abbattute per poi realizzarci delle palazzine. Adesso stiamo presentando il nuovo piano regolatore sulla quale daremo una registrata e una frenata fortemente vistosa verso questi nuovi insediamenti che purtroppo creano forti disagi perché sono quartieri cresciuti con una certa presenza e con questi aumenti vanno a creare dei disagi poi difficilmente recuperabili. Vi ricordiamo di mandarci brevi messaggi di due e tre lighe perché altrimenti non riusciamo in diretta a leggere le lettere intere. Dunque, le ultime due domande, Sindaco, perché siamo in chiusura. Parcheggi Scuola Nuova a Cucurano, che ancora non sono stati realizzati. Vanno progettati, lo dicevo prima, purtroppo abbiamo una mole di lavoro, devono partire 50 milioni di lavori, abbiamo alcune scadenze dove rischiamo di perdere fondi se non interveniamo e quelle hanno priorità su altri. Dobbiamo dire che lo farebbe a chiunque fosse al mio posto. E poi le chiedono quando verrà rifatta la gradinata allo Stadio Mancini. Se era per me l'avrei già fatta da un pezzo, proprio ce la devo dire chiaro e tondo. Il progetto è pronto, adesso devo avere altri, alcuni mi hanno detto che devono rivedere una cosa e poi bisogna appaltarla. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro ci vediamo pressoché mensilmente, per cui avremo modo anche di leggere gli altri messaggi. Quelli che non abbiamo letto questa sera, comunque vi promettiamo, li lasciamo tutti a sindaco. Ci rivediamo presto. Intanto domani mattina la conferenza sull'ex agit. Esatto. E buona serata e buonanotte a tutti. Buona serata anche da parte nostra. Un ringraziamento a Cristiana Guerra in regia e al nostro regista Riccardo Sora, che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno. Grazie per averci seguiti e arrivederci a domani. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.